Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con la Rassegna Stampa. Buongiorno insieme a me, ve lo porge Pietro Baldassarre che è di là in regia. Andiamo a cominciare dando un'occhiata alle notizie nazionali e internazionali, cominciando dal sito web dell'Ansa.it. Andiamo a vedere subito qual è l'apertura. Eccola qui, la manovra da 30 miliardi via libera alla legge di bilancio. In arrivo il bonus nuovi nati. Meloni, la Premier dice non ci sono nuove tasse. 3,5 miliardi da banche e assicurazioni, la Premier dice vanno alla sanità. Dunque fa i puntati sulla manovra del governo. E poi l'operazione della finanza, arrestato per corruzione il direttore generale di Sogei. Tra i 18 indagati c'è anche il referente di Musk. In Italia Andrea Stroppa, il braccio destro in Italia di Musk. Sogei, il cervellone con tutti i dati degli italiani. E poi schedina 3 Euro, superenalotto a Riva del Garda, centrato il 6 da 89 milioni. 89 milioni, non sono proprio pochi. E poi la Meloni verso il Consiglio dell'Unione Europea. L'atteggiamento di Israele è ingiustificabile, ha detto. La Premier in Libano, venerdì. E ancora in primo piano l'incontro la mamma di Giorgia e Arianna Meloni. Le mie sono figlie sistemate, io faccio le candele. La signora è in ciociaria per vendere le sue creazioni. E poi lutto nel mondo della cultura, addio a Scarmeta. L'autore di Il Postino di Neruda, da cui fu tratto il film Il Postino, con Troisi. L'allerta della protezione civile, temporale al nord e al centro, previsti rovesci intensi e grandinate. Anche forte raffiche di vento. Vediamo il colonnino dell'ultima ora. Alle 6.53 a Raid a sud di Beirut, fumo nero tra gli edifici. Alle 5.25 Cina, non rinunceremo mai all'uso della forza su Taiwan. E alle 2.08 IDF, 50 proiettili sparati dal Libano verso Israele. Bene, queste le ultime notizie dal sito dell'ANSA. Andiamo a dare un'occhiata invece alla pagina di Repubblica.it, il quotidiano online del quotidiano La Repubblica. In primo piano la legge di bilancio 2025. Tutte le misure della manovra da 30 miliardi. Ristrutturazioni, fringe benefit, bonus bebè, aumenti su giochi, accise diesel. E ancora, governo una Meloni brutale, chiude la partita della manovra e con una frase piega Tajani e Salvini. Questo è il massimo possibile. L'intervista a Galli, incertezza sui numeri, riforme e investimenti fumosi. Così l'Unione Europea chiederà chiarimenti. E poi lo spazio avvistato in Russia alla cometa del secolo. Ancora la Premier bagare in Senato. Meloni, piuttosto che farmi spiegare le mie parole dal Movimento 5 Stelle, mi dimetto il sarcasmo di Conte che ha detto ci provo. L'inchiesta, Sogei, Andrea Stroppa, lasso di Elon Musk, l'hacker divenuto lobbista, passò da Renzi ad Atreiu. Chi tocca il business si scotta. Sogei ha arrestato il direttore generale. I PM dicono corruzione dei ministeri tra i 18 indagati. Stroppa. La cultura, i conti, dai ticket agli sponsor, il flop del maxi targato Giulio Espano. E ancora la Bucmes, Giulio, in nessun caso Giglioli, no ai tagli sanguinari contro la cultura, ma non prende impegni concreti. Ancora i temi della politica. Dopo le parole di Bucci, Roberta Pinotti dice ho rivissuto il dolore di non riuscire a essere madre. E ancora Liguria, de natalità, Bucci, vorrei che tutti noi candidati avessimo fatto figli. Orlando, non criminalizzare chi non ne ha potuti avere. E ancora la donazione da Angelucci, 150 mila Euro all'Istituto Gramsci. Sposetti dice, li chiedo a tutti. Le politiche migratorie, Europa, migranti in Albania, Bruxelles frena. Il legale non è un modello per l'Unione Europea. Poi il reportage a Schengen, attese e proteste. No ai centri migranti o rischiamo la fine di Lampedusa. Questi dunque gli argomenti principali, i titoli principali sul sito di Repubblica, repubblica.it. Adesso diamo un'occhiata invece al Corriere della Sera, Corriere.it. Adesso abbiamo problemi di collegamento. Speriamo si possano risolvere. No, al momento pare di no. Andiamo a vedere allora. Credo sia tutto bloccato al momento. Vediamo se riusciamo a collegarci, se Pietro dalla regia vede le pagine. Non abbiamo collegamento. Allora facciamo così Pietro, mettiamo un servizio. Lo andiamo a prendere dal Tg di ieri sera. C'è stato il caso a Morrodoro di un bimbo lasciato nello scuolabus, rimasto nello scuolabus e poi è stato ovviamente recuperato. Un grande spavento. Noi ieri sera abbiamo contattato la sindaca di Morrodoro, Romina Sulpizzi. Se tu, Pietro, riesci a procurare questo servizio, intanto vediamo questo servizio e cerchiamo di riconnetterci a internet, se è possibile. Se ci sei, Pietro, vediamo il servizio del Tg di ieri. Non devono accadere più, ecco, in futuro. La sindaca di Morrodoro, Romina Sulpizzi, commenta così. Quanto è accaduto ad una bimba di meno di tre anni, dimenticata ieri mattina a bordo dello scuolabus che avrebbe dovuto lasciarla alla scuola dell'infanzia? Invece la bimba è rimasta lì per quasi quattro ore. Né l'autista, né l'assistente si sono accorti di nulla. Forse si era addormentata e stesa su uno dei sedivi, nessuno l'ha vista. Ci sono stati procedimenti di sospensione, che le sappia, rispetto ad autista e assistente? Sì, 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 assolutamente sì. Sono già stati sospesi dell'immediato, diciamo, nel pomeriggio non hanno ripreso servizio, già alle tre e mezza, diciamo, alle sedici del pomeriggio. Non era mai successo prima a Morodoro. La famiglia al momento non ha sporto denuncia. Sono incidenti, quindi ripeto, nessuno se lo augura e questi servizi sono assolutamente importanti e essenziali per noi comuni. La prima cosa sono gestire il servizio delle scuole, quindi assistenza, pulmini, sei trasporti e quant'altro. Il personale scolastico si è accorto dell'accaduto quando intorno a mezzogiorno la mamma è andata a riprendere la bimba a scuola. L'autista, contattato subito telefonicamente, era appena salito sullo scuolabus per pulirlo, prima di riprendere il consueto giro, quando si è accorto che c'era la bimba accaldata, ma in buone condizioni. L'ha accompagnata a scuola dove è stata rifocillata e fatta tranquillizzare tra le braccia della mamma e delle maestre. Noi dobbiamo tutelare, ripeto, al 100%, minori, tutto il personale e comunque deve essere un servizio garantito. I genitori cosa le hanno detto? La mattina consegna un bambino sul pulmino per andare a scuola, è impensabile che possa accadere qualcosa del genere. Comunque bisogna trovare un sistema, adottare qualche procedimento che impedisca che accada questo al personale, istruirlo in un modo diverso oppure adottare, ripeto, dei sistemi specifici che non accadino più, perché si ripetono, purtroppo sono gravi, ma si ripetono. Stiamo cercando di ripristinare tutto, questa mattina la linea internet sta facendo i capricci. Allora, vediamo se riusciamo a vedere le pagine, sì, pare di sì. Allora, la prima pagina del messaggero d'Abruzzo, il titolo di apertura, 5 zone rosse nei giorni del G7, Pescara si blinda, massime restrizioni all'Aurum intorno al Comune, ci saranno anche manifestazioni e corteo di protesta. Intanto l'Abruzzo spezzato in due, quello che sta accadendo per l'autostrada, per i lavori sotto alle gallerie del traforo. Odissea Gran Sasso esplode, la protesta contro le lunghe code. Il Maxingorgo è in attesa di imboccare il traforo. L'Aquiletteramo sono territori sempre più lontani e dal nord Abruzzo a basse marche, sempre più complicato di raggiungere Roma, poi lo ritroveremo all'interno. Premio penne ad Augias per la vita si impara, questo per quanto riguarda la cultura. Ancora in prima pagina, prove di emergenza per una falsa bomba alla scuola Illuminati di Pescara e poi la questione abbattimento dei cervi in Abruzzo e battaglia sui dati reali in vista della sentenza definitiva. Il presidente della regione Marsilio dice indietro non si torna, usano bambi per commuovere. Ancora a fondo pagina, frantoia secco l'anno nero dell'olio vestino, le olive raccolte rischiano di marcire, soffrono pure i fagioli del Tavo, dunque non è un buon momento per l'agricoltura in quei territori abruzzesi. Teramo, scuola chiusa ai prof del Delfico, scrivono a Mattarella ieri la protesta di Luigi Ponziani, Elso Simone Serpentini e Lino Befacchia incatenati davanti all'ingresso del liceo del convitto delfico. Vasto abusi in caserma, trasferito il maresciallo sotto processo. E poi il calcio di Serie C, Pescara anche con la SPAL Baldini, s'affida a Bentivegna. Questi titoli della prima pagina del messaggero, poi ancora in prima pagina il messaggero lo portava ieri, bimba dimenticata sullo scuolabus, sospesi gli addetti. Lasciamo il messaggero, andiamo a vedere le prime pagine del centro nelle quattro edizioni. Allora, questa è l'edizione di Pescara, così l'abbiamo ucciso. L'apertura è dedicata alla cronaca, cronaca giudiziaria in questo caso. Delitto Crocs, la confessione di uno dei due arrestati. Il figlio del carabiniere IPM ha detto, il mio amico mi ha detto di portare coltello e pistola, non capivo perché. E poi, fotonotizia, era prof in Marocco, ora fa il contadino, Mohamed si sacrifica per la famiglia dove studiano tutti e Maria si è già laureata, cade a Trasacco. E poi parla l'esperto, cervi dannosi, il problema non sono i numeri. E ancora qui sotto a Pescara il summit internazionale G7, città blindata, 5 zone rosse. La prossima settimana il vertice, le strade chiuse e i divieti. A pescare allarme, altre due auto in fiamme a Fontanelle. I titoli sotto la testata, Ortona, omicidio di Ortona, il PM nuovi esami, Lorena caccia all'arma del delitto, si cerca il DNA sul guinzaglio del cane. E poi consiglio regionale, centrodestra all'Aquila, scontro sulle nomine e tutti insieme sul palco. Bene, questi i titoli della prima pagina del centro edizione di Pescara, vediamo l'edizione di Teramo, eccola qui. La pace dell'Aquila, malgrado gli scontri sulle nomine, ancora nessun voto sullo spoil system, il centrodestra si ricompatta, sabato la Kermess con tutti i leader. Poi la fotonotizia è la stessa che abbiamo visto nell'edizione di Pescara e anche il titolo sui cervi. Cervi dannosi, il problema non sono i numeri. Traforo ci sono altri disagi. Gran Sasso, i lavori per la sicurezza, acqua a rischio in 23 comuni, cambiano gli orari dei pullman. Ieri era stata annunciata anche una riduzione della portata o un'interruzione dell'erogazione dell'acqua. A Teramo, almeno dalle mie parti, non è mancata, dovrebbero esserci altri disagi giovedì. Teramo, il prefetto, i vigili urbani garantiscano più servizi. E poi Morrodoro, bimba lasciata sul pulmino, sospesi, autista e assistente, come vi abbiamo fatto vedere nel servizio di ieri del nostro Tg. E poi la protesta sale di tono. A Teramo, Delfico, il sindaco vuole lo stato di emergenza. Ex-docenti si incatenano nella fotografia, lo vedete. L'ex-dirigente, l'ex-preside del liceo classico, Lino Befacchi. E poi a Lorena, caccia all'arma, a Dortona, caccia all'arma del delitto. Si cerca il DNA sul guinsaglio del cane. Andiamo a vedere adesso la prima pagina dell'edizione di Chieti, Chieti Danciano Vasto. Così l'abbiamo ucciso, l'apertura che abbiamo visto nell'edizione di Pescara. Delitto Crocs, la confessione di uno dei due arrestati. Poi i titoli della realtà territoriale teatina. Eccoli qua. Chieti, il vertice decisivo tra istituzioni, di Savoia, studenti in altre sedi, demolizione della scuola, via al trasferimento di 22 classi. San Salvo, poca acqua, dimezzate le produzioni di uva e olive. A Torino di Sangro, sfruttamento sul lavoro, imprenditore denunciato. E poi vedete qui, a tutta pagina, l'articolo sotto la testata. Il titolo, Lorena e caccia al DNA sul guinsaglio, omicidio di Ortona, la procura ordina esami di laboratorio sulla possibile arma del delitto. Andiamo a vedere la prima pagina del centro edizione Aquilana, l'Aquila Avezzano sul Mona. La pace dell'Aquila, malgrado gli scontri sulle nomine, ancora un voto sullo spoil system, il centro-destra si ricompatta sabato alla Kermess con tutti i leader. E poi qui sotto il modello Avezzano, scuole sicure con i supersensori, presentato il sistema progettato al Tecnopolo d'Abruzzo. E poi la polemica, dogane a Pescara alla rivolta dell'Aquila. Prato la Peligna, tir trancia un dito a un operaio sull'autostrada A25. E qui sopra il titolo, ovviamente che riguarda ancora, viene ripetuto, la caccia ad Ortona dell'arma del delitto, per il delitto di Lorena. E poi all'Aquila il comune si difende, colonna, ecco perché le bollette spedite agli eredi dei defunti. Questi titoli delle prime pagine del centro. Adesso torniamo al messaggero e lo andiamo a sfogliare insieme. Avevamo già visto tutti i titoli della prima pagina, andiamo all'interno. Eccoci qua, lo stop alle doppiette per la caccia ai cervi, partita riaperta, decisivi per la sentenza e i dati reali sugli animali. Dopo lo stop alla caccia, le associazioni preparano la battaglia in Consiglio di Stato. Un censimento inattendibile alla base di una presa di posizione ideologica. E poi l'intervista a Marco Marsilio e sensazionalismo citano Bambi per far commuovere. Gli avvocati hanno detto alcuni aspetti fondamentali non considerati dal Tarra, a novembre li faremo valere. Poi Marsilio in tante regioni si fa così, gli esperti ci danno ragione perché nessuno si mobilita per il granchio blu, dice Marsilio. E poi testimonial Donatella di Pietrantonio che ha detto una soluzione meno primitiva, chiedeva un mese fa. Poi il regista Riccardo Milani e il musicista Franz Di Cioccio che ha detto, della PFM nativo di Prato-La Peligna, se l'umanità non rispetta gli animali non rispetta se stessa, se l'uomo protegge gli animali si sentirà meglio, ha detto Franz Di Cioccio. E poi il Festival all'Aquila Città di Montagna, una cinque giorni di eventi, in Piazza Duomo all'Aquila Sport, dibattiti e grandi alpinisti ospiti per promuovere e valorizzare le risorse montane. E poi il problema del collegamento via Traforo con l'Aquila, con Roma, da Teramo. Ore di coda per il Traforo Maxingorgo fin dall'alba, a due giorni dall'avvio dei lavori nel tunnel del Gran Sasso, la situazione è insostenibile, davvero ci sono code chilometriche. In crisi i pendolari tra Teramo e l'Aquila, le aziende di trasporto rivedono tempi e orari. Guardate la foto qui sopra, alle 5.30, già alle prime ore del mattino di ieri, tutti in coda davanti al Traforo del Gran Sasso. La foto è stata scattata sul bus per Roma. Ma in basso i restringimenti sulla strada statale 80, la strada delle Capannelle, alternativa al caos traffico del Traforo del Gran Sasso. Ci sono numerosi cantieri e sul percorso alternativo 8 semafori per i cantieri. Scene di nervosismo e lunghe code ad Ortolano al passo delle Capannelle. Intanto la provincia pensa a una manifestazione di protesta. Il commissario Caputi dice c'è il nodo sicurezza, non vedo alternative. Però i collegamenti sono completamente saltati praticamente perché ci vuole davvero troppo tempo. E poi Pescara. 5 zone rosse per il G7. Blindate le sedi dell'evento. Massima sicurezza all'Aurum. Accesso consentito solo ai residenti, ma in strada niente auto. E cassonetti per il G7. E poi scuola evacuata. Panico per una sospetta bomba è successo a Pescara. E ancora morta dopo un festino, su Orsini prove incerte, tragica fine della fidanzata Ornella Florio, le motivazioni dell'assoluzione in appello. La Presidente Servino ha detto non è dimostrato che l'imputato abbia percepito la gravità. All'Aquila droga, confiscati beni a una gang di stranieri coinvolti albanesi, macedoni e cosovari che gestivano il traffico di stupefacenti. Colpiti i patrimoni di 16 soggetti legati a una banda dedita allo spaccio. E poi siamo ad Avezzano. 4 spaccate in centro. Sale di nuovo la tensione. Torna l'incubo dei commercianti. Le vetrine aggredite per pochi spiccioli. Pluri pregiudicato arrestato per il furto di 9 bottiglie di vino da un ristorante. E adesso andiamo a Chieti di Savoia. Oggi niente lezione, manca il sistema antincendio. L'ordinanza firmata da Ferrara riguarda i 500 alunni di Via d'Aragona. La provincia cerca aule in altri edifici. Di Pasquale dice questa è la nostra mission. Angelucci della Villa, la situazione è ancora incerta. A noi interessa la sicurezza dei ragazzi. Poi la grande sete nel Teatino, carenza idrica, i sindaci dicono basta, siamo allo stremo. Dobbiamo muoverci. Vasto, abusi sessuali in caserma. Maresciallo sotto processo. Finisce a giudizio un ex comandante dei carabinieri. La vittima è un sottoposto. L'uomo è stato trasferito in altra sede per evitare di interferire nell'indagine. E adesso andiamo a Teramo, Teramo e provincia. Ecco la protesta per la chiusura, per il sequestro dell'edificio che ospita il convitto e il liceo Delfico. Delfico sotto sequestro. I prof scrivono a Mattarella e nominano due avvocati. Gli ex Serpentini, Befacchia e Ponziani si incatenano alle transenne del palazzo. Il legale Lettieri, l'avvocato Gennaro Lettieri, in riunione con Dalberto e D'Angelo per i ricorsi. Pronta la superperizia. Oggi rientro in classe intanto per elementari e media alla Deia Cobbis e alla San Berardo. Vedete poi in quest'altro articolo il sindaco Dalberto, stato di emergenza. Il sindaco sta interloquendo con il ministero opposizione all'attacco, chieste le dimissioni. E dunque l'azione, vedete qui a sinistra le lezioni sulle scale del Duomo, agli studenti del classico. Al centro il titolare della pizzeria La Chiocciola che offre la porchetta, Gigi Ponziani, ex assessore. E poi al suo Simone Serpentini, ex docente, incatenati al Delfico con loro. C'era anche Lino Befacchia e poi l'avvocato Lettieri con Dalberto e Core. Per questa situazione davvero difficile dopo il sequestro dell'edificio del Delfico. Il dibattito, siamo ad Alba Adriatica. Misure anti-erosione. Dopo Alba le scogliere arrivano a Tortoreto. Il consigliere regionale D'Annuntis, investimento mai visto prima sulla costa nord, ha detto l'assessore regionale Umberto D'Annuntis. Bimba dimenticata nel bus, sospese autista e assistente. Sotto sciocchi i genitori della piccola di tre anni che si era addormentata per ore tra i sedili. Brutta storia, vogliamo dimenticare il provvedimento della società di trasporti. La sindaca di Morrodoro ha detto episodi del genere. Non si devono più ripetere, l'abbiamo sentito anche nell'intervista che è stata realizzata ieri per il nostro telegiornale. E poi petardo lanciato tra i banchi. Sentiti gli studenti in classe. I carabinieri, siamo a Roseto, stanno cercando di identificare l'auto del gesto. Si tratterebbe di una bravata. E ancora Giulianova già si organizza, Giulianova già organizza il Natale. Pista sul ghiaccio, eventi e concerti. Timidamente già si affaccia il Natale, anche se non si avverte ancora l'aria in città. Ma evidentemente già si pensa dunque alle cose da proporre. E poi a Giulianova infarto in Piazza del Mare muore un 76enne. Bene, lasciamo anzi questa notizia potatura per l'olmo di Piazza Martiri e della Libertà, che ha avuto dei problemi ultimamente. Quindi è in corso ieri mattina l'intervento che permetterà di rimanere anche nei pressi dell'albero senza pericolo, perché erano crollati dei rami nei giorni scorsi. Bene, adesso andiamo verso lo sport. Prima di salutarci, Pescara, il calcio, la Serie C. Bentivegna, fedelissimo di Baldini. Il 28enne ha preso per mano il Delfino e lo vuole portare il più lontano possibile. E poi la pallavolo, Sieco, Denora ha una bella reazione. Abba di Silvestre, punto insperato alla prima di campionato avvio in Agrodolce, ma le squadre abruzzesi sono soddisfatte dell'esordio, delle gare d'esordio. E poi, intanto qui sopra la notiziola la vedete, ufficiale niente tifosi del Teramo a Chieti, siamo alla Serie D di calcio. Con provvedimento del prefetto di Chieti è stato disposto il divieto ai residenti della provincia di Teramo della vendita dei biglietti per l'incontro Chieti-Teramo in programma domenica prossima. La disposizione è stata adottata in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. E poi Roseto, il basket di Serie B, Roseto il filotto nel mirino. Nel turno serale infrasettimanale i ragazzi di Gramenzi affrontano al Palamaggetti Loiesi per allungare in vetta. Dunque quinta giornata di andata per la palla a canestro Roseto che oggi, stasera, affronta nel turno infrasettimanale. Iesi, Chieti ospita stasera al PL Livorno, giocare senza timore reverenziale. Il coach Lardo, Lino Lardo, lo vedete nella fotografia, ha detto a Montecatini abbiamo disputato una pessima gara che ci insegnerà tante cose. E poi il calcio, Coppa Italia d'eccellenza, Giulianova ospita Celano, altro obiettivo da seguire, gioca Massetti, Out, Stanco e Carbonelli. Lanciano dopo la scoppola vuole rilanciarsi a Pescara, sempre per la Coppa Italia di eccellenza. Il tecnico Memmo, dice, la partita contro lo spoltore è andata male sotto tanti punti di vista. E ancora per l'eccellenza, vasto esposito si rimette, Thieri è il nuovo presidente, sempre per l'eccellenza, sul Mona Masticamaro e contesta alcuni episodi. Bene, abbiamo finito, sì, dando un'occhiata anche alle notizie, ai titoli sportivi. Ci fermiamo qui, torna di prima mattina, puntuale, domani alle 7, sempre in diretta, non perdete tutti gli appuntamenti di oggi, ancora una giornata lunga di appuntamenti su Super J. Grazie e buona giornata, arrivederci. Grazie a tutti.